Ehi, non l'avrei mai detto, cyborg, ma i Teen Titans sono bravi a fare i cartoni ridicoli! Chi pensava di poter interpretare tanto bene una commedia? È bello non essere appesantiti dallo sviluppo del personaggio! Credo che questa possa essere l'incarnazione definitiva dei Teen Titans! Visto che tutti quanti pensiamo di essere migliorati... ...ci rimane un ultimo lavoro da compiere! Scoiaccalo! Volete colpirlo con un martello, vero? Sì! Volete fargli male con un candelotto di dinamite, vero? Oh, sì! Volete buttargli un'incudine sulla testa, vero? Sì! Ora che siamo dei cartoni buffi, possiamo comportarci male! Sì! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.